Ma un fine, e allora dicevo, un giorno, attacco eh, un giorno un zomiero, non lo spiego, la prima volta, poi se non era capito, la seconda volta, un giorno un zomiero si imbattette in un branco di scemmie, e il traveste della chiubella disse, fotte per teoria, e la scemmia, tutta bestialina, come potria sgranuzziare e smelazzare si grande e potente pistille, fargli potria una fogna. E' un zomiero, e' tanzico quel bengallo, e' tanzia, allora una scemmia con ambo quattro le mani, il prese, perchè c'ha il padromano, e' ingomincio smelazzare, e' tanzia, e' tanzia, che' tanzia, che' sburretta, e' tanzia, 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 ma sì! 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 Pesce il zomiero, e' la scemmia! Salute, risposto il zomiero, saluto il mazzo! Un zomiero? Saluto il mazzo, devo dire, saluto l'avvocato! Saluto il mazzo, e con lo tuo malo seme, con lo tuo malo seme, me lo rinasti lo caro nome! Orón…. Allora? D'acetizia Moralità, moralità, chi farà bene ricevelo male! Bene! Sì! Noi! Maậnid! Nooooooooooooooooooooooo! Grazie a tutti.